ciao ragazzi anche oggi ci ritroviamo per l'allenamento del giorno io sono mario il coach proverò a mostrarti quello che abbiamo combinato noi in palestra alla lavagna siamo io e l'alberto ci abbiamo provato e ovviamente tutto iniziato dal riscaldamento dagli inocchiata come sempre occhio ai movimenti se hai qualche domanda mi scrivi sotto ci vediamo alla forza ciao 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 ed eccoci qui alla forza ragazzi ti sei riscaldato bene quindi oggi la forza e il bench press quindi distensione su panca piana pettorale per intenderci la sequenza sempre una scala a salire con un unico peso quindi da 6 per 1 fino a 9 per 1 recupero più o meno di tre minuti quindi trova un peso giusto come sempre occhio ai movimenti prima di iniziare ti consiglio di fare magari qualche push up oppure hindu push up nel video ti faccio vedere qual è questo tipo di esercizio e noi ci vediamo al workout show ed eccoci quella parte finale dell'allenamento quindi abbiamo due giri secchi 600 metri di corsa 30 addominali sit up e 10 over head squat attenzione utilizzo del bilanciere occhio sempre ai movimenti quindi dai un occhio a quello che abbiamo combinato io ed alberto tu come sempre occhio ai movimenti qualsiasi domanda mi iscrivi sotto ti ringrazio aver guardato questo video iscriviti al canale o al massimo lascia mi piace e noi ci vediamo lunedì allenati bene ciao 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 ciao